La Diocesi di Biella quest'anno vivrà una serie di eventi molto importanti, tutti concatenati fra loro e tutti volti alla gioia di festeggiare i 250 anni dalla fondazione della Diocesi. Se a Santo Stefano la comunità biellese, assieme ai canonici locali e vercellesi, ha voluto invocare in modo particolare la protezione del santo protomartire, patrono della città e della Diocesi, in questi giorni ci si avvicina a vivere un altro importante momento di ringraziamento e di preghiera. Infatti, un nutrito gruppo di pellegrini biellesi, insieme al nostro vescovo Roberto, questa settimana ha voluto recarsi nella città eterna per incontrare il Santo Padre e per arricchirsi appieno dello smisurato spirito di cristianità che si respira fra le mura più antiche del mondo occidentale. Martedì 23 marzo verrà celebrata la Santa Messa nella Chiesa dei Santi 12 Apostoli di Roma. Basilica non scelta a caso, ma ricca di legami con la nostra terra biellese. Qui, infatti, è sepolto in uno splendido sacrario del Canova il sommo pontefice Clemente XIV, che il primo giugno 1772, con una bolla papale, eresse la diocesi di Biella. Ma se limitati sono i pellegrini che sono giunti fino a Roma e che possono assistere quindi dal vivo alla celebrazione, moltissimi sono i fedeli che potranno unirsi in preghiera per questa specialissima funzione. Rete Biella e Telebiella, infatti, offrono a tutti i telespettatori la diretta televisiva della Santa Messa Giubilare, che per l'occasione verrà preseduta dal cardinale Giovanni Battista Re, a cui noi biellesi siamo particolarmente legati per aver incoronato la nostra cara Madonna Nera. Martedì 22 marzo, a partire dalle ore 18 e 30, sarà quindi possibile seguire in diretta la celebrazione eucaristica, con una smart tv ed una connessione a internet, su Telebiella, canale 19 del sistema televisivo HBB TV e sul canale YouTube ReteBiella.tv. Mercoledì 23 marzo, invece, per chi non avesse potuto seguire la Santa Messa il giorno prima, la funzione verrà replicata in differita televisiva e sarà visibile a partire dalle ore 10 e 30 su ReteBiella TV tramite applicazione per smartphone o smart tv o browser al sito www.retebiella.tv.